buongiorno sono qui nel mio ufficio l'ufficio del sindaco luogo dove io svolgo la mia attività per il comune di arona colgo l'occasione per fare gli auguri di natale ai lettori di arona 24 questo è stato un anno molto difficile la pandemia ci ha condizionato su tutti i fronti è stato difficile per i ragazzi delle scuole è stato difficile per le persone anziane è stato difficile per le attività il commercio industria tutti hanno sofferto e quindi vorremmo che il 2021 ci riservasse qualcosa di speciale ma questo qualcosa di speciale io lo ridurrei a ritornare ad avere una vita normale a questo punto noi potremmo apprezzare anche i piccoli momenti che nel 2020 ci siamo persi io credo fortemente che il 2021 possa essere l'anno della svolta dove tutti possono ritornare ad avere una vita sociale normale su tutti i fronti quindi colgo ancora nuovamente l'occasione per augurare a tutti un 2021 che sia un anno dove ci si possa dedicare alla propria vita così come non l'abbiamo potuto fare nel 2020 auguri a tutti